VOLETE CREDITI O ACCOUNT CON FIFAPOINTS? GO FIFACOINTS! LINK, CODICE, COUPON IN DESCRIZIONE! Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di 2 malati di foot, io sono Joey Spon dello staff di NMF e benvenuti nella player Beauty Summer nella sua versione Continental Band of the Match con 87 di Raiding. Prima di tutto vi chiedo scusa per questa mia voce strana, ma il periodo in cui sono raffreddato o pure l'allergia non lo so sinceramente. E prima di iniziare la review vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, arriviamo almeno a 60 like mi piace per questa carta e per questa review. E vi invito a commentare qui sotto con dei giocatori che vorreste vedere le nostre prossime player review. Secondo me il primo pro di Summer in questa versione è il tuffo, ha un 89 in carta. Ragazzi, anche lo suo stile di parata è acrobatico, quindi ha un tuffo secondo me molto molto interessante. E devo dire, mi è piaciuto. Il review, altro pro, ed ha un 89. Rinvio preciso, rinvio diciamo molto forte. E devo dire, mi è piaciuto anche il suo review di piedi. Infatti ha anche 4 stelle e piede debole, come è come piede preferito il destro. Le 4 stelle sono un altro pro perché ragazzi, se vi capiterà di rinviare con lui di mancino, lui ci riuscirà abbastanza bene. Come altro pro, i riflessi ha un 90 in carta. Ragazzi, para dei tiri anche abbastanza difficili, ma a volte fa delle cavolate assunte. Però i suoi riflessi sono per me un pro. Come contro, unico contro, la presa in uscita. So che è una cosa abbastanza strana, ma vi spiego cosa voglio dire. Ovvero, sui calci d'ancolo a volte o sui cross, potrebbe bloccarla tranquillamente con la sua uscita, su una palla alta ad esempio. Però lui va di pugno, non so, forse è una sua caratteristica, ma lui non la blocca molto spesso. E' una cosa che mi ha dato abbastanza fastidio perché dotavo azioni o cross più che altro nel quale poteva bloccarla e invece preferiva spazzarla di pugno. E mi ha dato abbastanza fastidio. Altri valori in carta, presa 88, devo dire discreta. Velocità 56, devo dire niente di che è la sua reattività, è secondo me buona. Piazzamento 88, anch'esso buono, ma non proprio un pro. Dalla distanza non si fa trovare sempre impreparato, però qualche gol con dei tiri dalla distanza lo prenderete con lui in porta. Sommer è alto 183 centimetri, è un'altezza probabilmente non proprio il top. Io preferisco portieri alti almeno 190, però diciamo non si fa sentire più di tanto la sua altezza, perché è un giocatore che para anche i tiri alti. Come alternativa a questa carta vi dico De Gea. Tra le Legende Levan, della Lega Lelo, dello stessa Nazione, Burki, dello stesso livello Schmeichel. L'Inform ha un 86 di rating, l'upgrade un 84 di rating, carta che non ho provato. Io vi consiglio uno stile tesa imbrutato all'aumento della presa, così magari delle uscite la bloccherà un po' più spesso, anche se ne dubito. Ma in generale i suoi valori sono buoni, quindi più che altro vi consiglio di aumentargli la presa. Questa carta costa di circa 42.000 crediti, l'86 23.000, l'84 2.600 crediti. Prezzi per PS4. E' una carta da provare? Secondo me sì e no. Sì, se state cercando un portiere e vi siete sconciati da solito Lelo, Framan e altri, quindi prendete Sommen e vi troverete secondo me abbastanza bene. No se avete Neuer Jan, le vostre Bundes, perché secondo me è meno forte di Neuer, versione base. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 6,5. Dunque, secondo me non si merita proprio il 7, perché con lui in porta subirete i gol, alcuni gol abbastanza scemi, tra virgolette, e non è un portiere con cui mi ci sono trovato particolarmente bene. Dunque, vi chiedo di lasciare un bel piaccio a questo video e vi chiedo scusa per questa mia, diciamo, performance deludente. So che ci sono stati degli errori in questa review e ve ne chiedo scusa, vi chiedo scusa per questo. Spero possiate essere compressivi nei miei confronti. Dunque, qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli! Ciao belli!